In tarda serata è arrivata la notizia, domani si chiude per Correa, sì ragazzi domani, un po' di tosse, domani si chiude per Correa, cazzo sì sì, vincezzino si chiude per Correa domani, se ne va, se ne va. La figurina se ne va, la figurina, con il Marsiglia sì, sì con il Marsiglia Stanley, arriva di nuovo Sanchez, ma che cazzo, gli hai pagato pure la clausa, ma che società però, mamma mia ragazzi, obiettivamente ragazzi, facciamo cagare però Stanley. Oh cazzo, però è un prestito? No, 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 dovete comprare, no, che poi torna un'altra volta, poi gira a gira è sempre qui questo qui, no, no, quale cazzo di prestito? No, 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 vendere, vendere, vendere. Fuori Correa, dentro Allegra, domani chiusura della trattativa per Correa all'Olimpi in Marsiglia, prestito con diritto di riscatto, ma che puttana, dopo questo dice no, a me non mi va e torna a rompere i coglioni. A 12 milioni, come erano 15, già facciamo sconti, già via, 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 vabbè dai, tu pensa che tu hai dato Brozovic per 12, ma che cazzo state facendo? Dai, se ne va Correa, che bello, finalmente non vediamo più il ballerino lì in mezzo, ma che bello, era un incubo, Gagliardini Correa, era un incubo, mamma mia, mamma mia, guarda abbiamo sofferto però, abbiamo sofferto troppo. Dai che se ne va, notizia, notizia.